Una valanga che è appena scesa dal Manaslu. Questa è grande, arriva qui il pulviscolo. Guardate come arriva qui il pulviscolo. Tra la foto devi fare la doccia. Tra la foto devi fare la doccia. C'è meglio la cover di tarpa lì, perché potrebbe arrivare l'acqua qui. Wow! Non. Tu pensi? Non, potremmo non. Non, non. Non c'è più... Ciao Sihon! Ausler scoocola. Un rosso di uova sbattuto. Xinhard! Peggavala già! ecco